Le nostre domande sono quali siano state le iniziative intreprese nei confronti dell'AIFA affinché vengano garantiti i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità propri di un ente pubblico in particolare, riguardo ai nuovi prezzi di rimborso dei medicinali biotecnologici, riguardo ai nuovi prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, alla mancata distribuzione del payback a favore delle Regioni. Quali iniziative siano state intreprese per risolvere il blocco dei ripiani relativi al superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende farmaceutiche per gli anni 2003, 2014 e 2015? Ricordo che sul 2013 grava la sentenza del Tribunale della sezione Quater del Lazio, sentenza numero 04538 2015, mentre per il 2014 e il 2015 non abbiamo proprio il calcolo del ripiano. In particolare offriamo anche una soluzione, se nelle more della risoluzione delle irregolarità riportate in premessa siano state individuate soluzioni che prevedono il versimento di acconti, per esempio il 90%, lasciando una parte residuale, ad esempio il 10%, da subordinare alla risoluzione delle controversie. Qui aggiungo anche che il comma D dell'articolo 5 del decreto legge numero 222 2007 recita esattamente in questa maniera La mancata integrale corrisponzione a tutte le regioni interessate da parte delle aziende di quanto dovuto nei termini perentori previsti, prima si parlava appunto del payback in questo articolo, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20% nei successivi sei mesi. Stante che le aziende farmaceutiche non hanno corrisposto il payback per il 2013, per la sentenza citata, per il 2014 e per il 2015, mancato calcolo del payback da parte dell'azienda italiana del farmaco, ricordo che eventualmente, oltre a un eventuale danno economico connesso a quell'aspetto, c'è anche un danno economico che deriva dalla mancata applicazione del comma D dell'articolo 5 citato. Quali iniziative intendono assumere affinché sia possibile conoscere tutta la documentazione disponibile al fine di verificare l'effettivo ottenimento dei 500 milioni di euro di risparmio indicati dall'intesa della conferenza Stato-Regioni numero 113 del luglio 2015, cioè quella che sarebbe dovuta derivare dal ricalcolo delle tariffe dei farmaci del nuovo piano nazionale farmaceutico. Quali sono i motivi per i quali l'AIFA, per la determinazione dei nuovi prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, abbia individuato solo alcune classi di farmaci e non tutte quelle presenti all'interno del prontuario farmaceutico nazionale, che naturalmente avrebbe consentito un maggiore risparmio. Ed infine, quali siano gli esiti dell'attuale gestione informatica dell'AIFA, appaltata da Accenture Technology Solutions, che tra l'altro è in via di scadenza. Poi continuerò nella risposta. Grazie. Presidente Onorevole Grillo, in merito a quando è spessamente richiesto nell'interpellanza in esame, innanzitutto l'Agenzia Italiana del Farmaco ha inteso precisare quanto segue, proprio per punti, secondo l'ordine che ha indicato l'Onorevole Grillo e che è contenuto nel dispositivo dell'interpellanza. In ordine, quindi, al primo punto. La decisione assunta dall'AIFA, dopo aver esaminato la questione con l'Avvocatura Generale dello Stato e con il Ministero della Salute, di non interporre al pello avverso la sfavorevole sentenza del Tar Lazio, indicato nell'interpellanza, è stata motivata dalla considerazione che alcune affermazioni rese nella decisione del Tar non potessero trovare valide argomentazioni in sede di impugnativa. Si è quindi concordato di procedere al riavvio del procedimento, consentendo alle aziende farmaceutiche, come avevano richieste nel ricorso, l'accesso ai dati disaggregati, come da queste oggettivamente richieste. L'AIFA ha predisposto il procedimento di ripiano sui dati effettivamente in suo possesso, ricevuti tramite il flusso OSMED e tramite il sistema di tracciabilità del farmaco, di cui al DM 15 luglio 2004 è che l'AIFA non è abilitata a trattare in maniera disaggregata. In ogni caso, all'esito delle richiamate decisioni del giudice amministrativo, l'AIFA, dopo aver ricevuto i dati di interesse delle aziende, ha prontamente reso disponibili detti dati agli aziende interessato, dando tempestiva ottemperanza alle sentenze del Tribunale amministrativo. L'ulteriore ragione che ha determinato la scelta di dare ottemperanza alla decisione di primo grado del giudice amministrativo è derivata dalla circostanza che, in alcuni dei condensiosi in questione, le aziende farmaceutiche effettivamente sono state in grado di dimostrare che i dati delle Regioni erano sbagliati. Le Regioni, pur avendo ricevuto le notifiche dei ricorsi dinanzi al TAR, non si sono costituiti in alcuno dei giudizi avviati dalle case farmaceutiche senza quindi proporre alcuna difesa del proprio operato. Le stesse Regioni avrebbero in ogni caso potuto proporre autonomo atto d'appello in Consiglio di Stato, ma neanche questa azione è stata intrapresa. In ogni caso, l'Agenzia ha riavviato il procedimento dando accesso a tutti i dati richiesti dalle aziende. Circo il secondo quesito concernente la rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali, l'AIFA ha precisato che l'articolo 11,1 del DL 558-2012 Balduzzi, per capirci, convertito con modificazione nella legge 189-2012 è stato sostituito dall'articolo 9 ter comma 10 lettera B del DL 78-2015 convertito con modificazione nella legge 125-2015, quella più nota come enti locali. Tale norma, in sostituzione del precedente previsione normativa che introduceva una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale, prevede che l'AIFA entro il 30 settembre 2015 concluda le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del sistema sanitario nazionale nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. Con determina AIFA del 6 settembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 234 proprio dell'8 ottobre 2015 sono stati approvati gli elenchi dei medicinali per i quali sono state condotte le procedure di rinegoziazione del prezzo. I raggruppamenti terapeuticamente assimilabili individuati nell'ambito di tale procedura negoziale che non definiscono raggruppamenti di medicinali equivalenti sul piano terapeutico sono stati considerati per giungere ad un effettivo risparmio per il sistema sanitario nazionale anche in considerazione della mancanza di una indicazione precisa del risparmio attesa in tale norma che potesse supportare giuridicamente l'attività di contenimento dei prezzi al di sopra di quella a cui l'AIFA è giunta. Peraltro, in precedenza, l'AIFA ha sempre provveduto ad aggiornare periodicamente l'allenco dei medicinali rimborsati dal sistema sanitario nazionale come previsto dalla normativa vigente. In merito al terzo quesito concernente le iniziative intraprese riguardo ai nuovi prezzi dell'AIFA l'AIFA precisa che ha sempre agito nell'ambito delle proprie attribuzioni in costante confronto con i ministeri vigilanti. Le rinegoziazioni sono avvenute sempre nel rispetto dei principi di lealtà e di trasparenza in pieno contraddittorio con le aziende farmaceutiche con le quali si è giunti a concludere i nuovi accordi sui prezzi. Complessivamente, la manovra porterà un risparmio per il sistema sanitario nazionale su base annua di 314,3 milioni di euro, corrispondente ad un risparmio atteso di 707,1 milioni di euro fino al 31 dicembre 2017. L'attività negoziale ha interessato 1.064 confezioni corrispondenti a 694 specialità di medicinali individuate nell'ambito di 13 raggruppamenti terapioticamente assimilabili comprendenti medicinali a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica convenzionata. Inoltre, la rinegoziazione ha complessivamente interessato 72 confezioni corrispondenti a 27 specialità di medicinali biotecnologici privi di copertura brevettuale e senza la concomitante disponibilità di un biosimilare. Relativamente alle 70 aziende farmaceutiche convocate per la rinegoziazione, 70, ripeto, rinegoziazione dei medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, l'attività negoziale ha portato alla sottoscrizione di accordi per 211 specialità di medicinale prevedendo a la riduzione dei prezzi di rimborso di 215 confezioni corrispondenti a 146 specialità medicinali, l'attribuzione di un payback che verrà versato dalle aziende farmaceutiche direttamente alle Regioni per 90 confezioni corrispondenti a 52 specialità di medicinali, la riclassificazione in fascia di non rimborsabilità di 19 confezioni corrispondenti a 13 specialità di medicinali. Dato una spesa farmaceutica convenzionata pari a 8,598 miliardi di euro, nel 2014 le rinegoziazioni porteranno un risparmio per il sistema sanitario nazionale su base annua di 242,4 milioni di euro pari al meno 0,28% e suddivisi in 189 milioni di euro circa derivanti da riduzione del prezzo dei farmaci, 40,81 milioni di euro di payback e infine 12,4 milioni di euro relativi a riclassificazione in fascia di non rimborsabilità. Quindi 189 derivanti dalla riduzione dei prezzi, 40 per il payback, 12 per riclassificazione in fascia di non rimborsabilità. La manovra ha coinvolto 112 gruppi di equivalenza presenti nella lista di trasparenza dell'AIFA tra i quali per 60 gruppi si è ottenuta una riduzione media del prezzo da 0,86 euro in un range che riguarda una riduzione da un minimo di 0,05 a 3,1 euro e in questo range la media è di 0,86. Con riferimento al quarto quesito riguardante la risoluzione del blocco dei ripiani è stato istituito un tavolo tecnico a seguito dell'accordo sancito il 2 luglio 2015 nell'ambito della conferenza Stato-Regione di cui fanno parte oltre la Regione e la Provincia Tor il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Ministero per lo Sviluppo Economico l'AIFA che sta elaborando questo tavolo una proposta normativa per la definizione di una nuova governance della spesa farmaceutica. Durante i lavori sono emersi l'opportunità e l'urgenza di consentire alle Regioni di chiudere i rispettivi bilanci degli anni passati introitando gli importi relativi al payback per gli anni 2013, 2014, 2015 mediante un'apposita previsione normativa in tal senso in relazione alla quale i componenti del tavolo stanno giungendo ad un testo conclusivo di questa norma. Quanto al quinto punto riguardo alla documentazione disponibile gli accordi negoziali sottoscritti con le aziende nell'ambito della rinorganizzazione dei prezzi richiamati nelle premesse della citata dei termini AIFA del 6 ottobre 2015 sono tutti accessibili secondo le generali disposizioni sull'accesso degli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 1990. In risposto al sesto quesito l'AIFA nella rideterminazione dei nuovi prezzi di rimborso ha proceduto in completa attuazione della modifica normativa che ho citato introdotta proprio dal 78 del 2015 convertito con modificazione alla legge 125 che ha introdotto la previsione di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. Tale norma ha già indicato i criteri di azione che ha applicato l'Agenzia per la individuazione di raggruppamenti medicinali terapeuticamente assimilabili di classi medicinali non sovrapponibili a quelle contenute nel prontuario farmaceutico nazionale. L'AIFA ha operato sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei farmaci OSMED separando il medicinale a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale autorizzati con indicazioni comprese nelle medesime aree terapeutiche aventi il medesimo regime di rimborsabilità e del medesimo regime di fornitura così come è previsto dalla norma. Sull'ultimo punto dell'interrogazione si fa presente che i sistemi informatici dell'AIFA sono attualmente gestiti dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Xenture SPA capogruppo mandataria da Xenture Technology Solutions SRL mandante Telecom Italia SPA mandante che è subentrato a seguito di una gara europea al Cineca Consorzio Interuniversitario. Peraltro essendo tale rapporto di servizio ormai giunto alla scadenza contrattuale la gestione dei sistemi informatici dell'AIFA è attualmente oggetto di una gara europea il cui espletamento è stato affidato alla Consip SPA e i cui dettagli sono consultabili al seguente link della Consip http www.consip.it gare bande storiche gare 2015 gare 005 tutti questi numeri e tutte queste lettere ovviamente l'onorevole Grillo li potrà leggere più comodamente sul testo scritto. Grazie. Sottosegretario la deputata Grillo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza prego no ovviamente non sono soddisfatta e adesso spiego tutti i motivi per cui non sono soddisfatta partiamo dalla sentenza 04538 2015 della sezione terza quater che ho stampato e ho letto questo è un ricorso che è stato proposto dalla Glaxo Smith Klein contro l'AIFA e il Ministro della Salute ed è vero anche contro le regioni che non si sono costituite in giudizio allora in questa sentenza ovviamente noi non abbiamo diciamo l'atto dell'Agenzia Italiana del Farmaco quindi quello che riprende la sentenza da quanto dichiarato all'Agenzia Italiana del Farmaco ci sono dei passaggi che ritengo importante leggere che rimangono anche agli atti per dimostrare che secondo noi c'è appunto una responsabilità da parte dell'Agenzia del Farmaco allora diciamo da quello che ha detto il sottosegretario sembrerebbe che il problema è solamente un problema di trasparenza anzi vorrei leggere proprio le parole utilizzate dai giudici del Tar il Tribunale parla di violazione dei principi di trasparenza e del difetto di istruttoria relativamente alla quantificazione della spesa farmaceutica ospedaliera per quanto concerne la mancata dimostrazione dei dati relativi alla distribuzione diretta e alla distribuzione per conto quindi mancanza di trasparenza mancato o errato calcolo appunto di questo benedetto ripiano poi a un certo punto l'AIFA per difendersi dice la normativa vigente non attribuisce all'Agenzia del Farmaco alcun potere di verificare l'esattezza degli importi trasmessi dalle regioni e dalle province autonome cosa che mi ha confermato anche nelle sue parole il sottosegretario quindi in sostanza le regioni mandano questi dati e nessuno controlla io mi chiedo chi deve controllare quindi l'AIFA non è un suo compito controllare se i dati mandati alle regioni sono corretti non so il ministero della salute cosa fa controlla c'è qualcuno che vede se questi dati sono corretti oppure poi diciamo no le regioni sono state brutte cattive che ci hanno mandato i dati sbagliati allora se le aziende farmaceutiche i dati corretti come avete asserito voi ce li hanno come ce li hanno le aziende farmaceutiche credo che sia legittimo che li abbiano anche le regioni e che li abbia anche l'agenzia italiana del farmaco quindi c'è insomma questo vulnus a questo punto devo dire visto che comunque questo governo questo ministro della salute ed è anche dell'economia delle finanze perché loro hanno pure il flusso dei dati quindi nessuno controlla la correttezza dei dati delle regioni un'altra gravissima ammissione di colpa da parte dell'AIFA che quindi è il motivo per cui voi sostenete che non abbia voluto fare il ricorso come a dire le agenzie le aziende farmaceutiche hanno ragione peccato che magari lo potevano sapere pure prima che le aziende farmaceutiche avevano ragione quindi magari evitare che succedesse quello che è successo ed evitare che siamo quasi nel 2016 e siamo fuori dal payback di ripieno di quasi 2 miliardi voglio leggere anche questo passaggio sempre della sentenza la circostanza dotta dall'agenzia in ordine alla neutralità sotto il profilo della quantificazione della spesa farmaceutica ospedaliera dell'utilizzo del metodo in questione cioè del metodo di calcolo non risulta essere conferente in quanto il legislatore ha previsto un metodo tassativo al fine del calcolo della suddetta spesa che non ammette in alcun modo la legittimità di altre metodologie quindi anche la doglianza rispetto alla modalità del calcolo è stata accolta perché il legislatore ha detto effettivamente non si può fare un calcolo diciamo così generico come ha fatto l'AIFA adesso voglio leggere questo passaggio perché è illuminante la mancata esatta quantificazione del suddetto importo stiamo parlando sempre dell'importo del payback a carico delle aziende spedaliere come esplicitamente ammesso dall'AIFA è stata imputata al passaggio al nuovo sistema informatico dell'agenzia avvenuto nel 2013 per quello io vi ho fatto quell'ultima domanda alla quale non mi avete risposto cioè che vi chiedevo quali erano gli esiti di questo palto fatto all'Acentur alla rete di imprese quindi dice al nuovo sistema informatico dell'agenzia avvenuto nel 2013 che ha impedito temporaneamente di attribuire un valore alle procedure di rimborsabilità condizionata relativa alle procedure pertinenti ai trattamenti avviati o conclusi nell'anno 2013 per i medicinali soggetti a monitoraggio tramite registri su piattaforma AIFA o ai trattamenti conclusi precedentemente ma le cui procedure di rimborso non erano ancora state vase dalla data del 31-12-2012 quindi delle due l'una o è un problema di questo diciamo passaggio a questo nuovo sistema informatico o sono sbagliati i dati delle regioni cioè non possono essere vere entrambe le cose anche perché se non funzionava questo sistema informatico non eravate in grado di vedere se i dati delle regioni erano corretti quindi insomma mi sembra che ci sia una responsabilità mi chiedo se il direttore generale dell'AIFA ha questa circostanza cioè la circostanza che era stato impossibile fare calcoli correttamente l'abbia segnalata al Ministero della Salute come circostanza che impediva di fatto di calcolare correttamente questi ripiani come poi ampiamente dimostrato e documentato in questo ricorso poi continua la resistente AIFA non ha in alcun modo contestato la ricostruzione ricorsuale essendosi limitata ad affermare la congruità della somma stimata per la voce ed equa e l'eseguità della stessa pari solamente a meno del 5% dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera nazionale questo è il non plus ultra come dire all'azienda farmaceutica e vabbè ma di che ti lamenti ti sto chiedendo alla fine due bricele come le ho calcolate le ho calcolate non è un problema signori qua cioè siamo veramente di fronte a un'approssimatività e a veramente una scarsa uno scarso impegno poi anche insomma io mi piacerebbe leggere la difesa da parte degli avvocati dell'AIFA perché probabilmente questo pull dovrebbe essere rinforzato perché sono ammissioni di colpa di una gravità secondo noi infinita allora questo rispetto al punto relativo alla sentenza e questo citando la sentenza della GlaxoSmith ricordo che ci sono altre due sentenze che invece fanno riferimento alla trasparenza propriamente e quindi al fatto che le agenzie le aziende non fossero state in particolare sono la sentenza 03157 2015 per un ricorso proposto da Pfizer a AstraZeneca proprio sulla sulla trasparenza grava un'altra sentenza invece addirittura con una questione di legittimità costituzionale sollevata in seguito al ricorso fatto dalla Takeda e questo riguarda invece proprio il governo perché riguarda un emendamento che voi avete inserito in legge di stabilità in particolare il 595 con il quale avete previsto che il ripiano del payback per i farmaci innovativi con un'idea geniale veramente devo dire e mi sembrava ovvio che le aziende facessero ricorso che questo ripiano dovesse essere poi calcolato anche sulle spalle di quelle aziende farmaceutiche che quel farmaco innovativo non l'avevano messo in commercio ma voi non potete chiedere alle aziende che non fanno farmaci innovativi di pagare il payback delle aziende cioè dei farmaci innovativi proposti da altre aziende era chiaro che ci sarebbe stata una questione di legittimità costituzionale ed infatti avete anche questa spada di Damocle del comma 595 della legge di stabilità che avete approvato voi quindi c'è anche una responsabilità del governo oltre che di vigilanza anche diretta guardi poi sul punto del calcolo del risparmio ottenibile sì vado a concludere sul punto del calcolo del risparmio ottenibile con la revisione del prontuario farmaceutico io vi faccio presente che nella conferenza è stato Regioni voi avete scritto esattamente governo e Regioni convengono che le misure di cui appunti 010203 devono assicurare un risparmio di almeno 500 milioni di euro quindi se l'agenzia del Farcom mi dice io non ho potuto perché non c'era un obiettivo economico ma quali fesserie sta dicendo l'obiettivo economico era 500 milioni di euro adesso voi mi avete detto che è di 314 milioni di euro per il 2015 e fino al 2017 è di 700 milioni di euro quindi ciò vorrebbe dire che se 300 sono nel 2015 2016 e 17 sono 150 e 150 o più o meno tanto perché la matematica non è un'opinione adesso stiamo a vedere infine sull'ultimo punto mi permetto di dire che sui farmaci terapeuticamente assimilabili io ci ho fatto una conferenza stampa perché ho detto che era sbagliata quella definizione ed infatti è stata sbagliata perché non ha consentito ma l'avrebbe potuto consentire perché per esempio gli antibiotici sono una classe terapeuticamente omogenea e non sono stati toccati da questa revisione del prontorio farmaceutico quindi se era un errore il Movimento 5 Stelle ve l'avevamo detto sui farmaci biotecnologici l'emendamento da Broso Lettere al Senato che elevava almeno lo sconto del 20% ha provocato il suo danno tant'è vero che voi siete riusciti a ottenere sconti tra il 5 e il 6 e il 7% quindi non avete ottenuto risparmio previsto e infine chiudo sull'Accenture Technology non mi avete risposto mi avete detto da chi è gestita che ci sarà una gara però io vi avevo chiesto gli esiti e ve li avevo chiesti perché nella sentenza del CGA e solo tutti i documenti pubblici c'era scritto che l'AIFA aveva ammesso che c'erano state delle difficoltà con quella gestione informatica e questo problema rimane in piedi chiudo dicendo che non si può gestire così un'agenzia dalla quale passano 25-26 miliardi di euro l'anno quindi quasi un quinto della spesa sanitaria nazionale e che se diciamo non vi muovete in questa direzione il Movimento 5 Stelle si muoverà in tutte le direzioni competenti in tutte le sede competenti per fare luce e per fare chiarezza su questa gestione grazie